Una sorta di via Gluck Tarantina, una periferia intesa come Isola Felice. E' questo Rione Collepasso, il libro, mandese editore, scritto da Gianni Florido, politico e sindacalista di lungo corso, già presidente della provincia di Taranto. Libro presentato a Villa Maria a Crispiano, presente tra gli altri il consigliere regionale Renato Perrini. E' un libro di ricordi, di memoria, il racconto di come un ragazzo di famiglia operaia Arsenalotte è riuscito nel tempo, con l'impegno sociale, la partecipazione, la vita associativa, a crescere nell'impegno sociale, anche nelle responsabilità collettive, con una parola magica, partecipazione. La vicinanza tra persone è più importante di ogni altra cosa e con Gianni è stato veramente per me un passato molto bello, con dei ricordi indenebili, che stasera segniamo un attimo un passaggio definitivo prima di pensare a un futuro più roso per tutti.